No, non lo so, 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 non La gente in macchina fa tutto meno che guidare, soprattutto parla di 518 della Croce Verde Fornovese, è un dottore. Oggi parliamo di ICE, che è il progetto che stiamo facendo assieme alla Croce Verde Fornovese. La Croce Verde Fornovese è il reparto che si occupa anche del tumore di Varano. La Croce Verde Fornovese La Croce Verde Fornovese La Croce Verde Fornovese